questo video è fatto di notte sono provata ma non sono sconfitta tornando a casa oggi pomeriggio dopo che avevo presentato il cud per pagare le tasse ho trovato che mezza casa era completamente senza luce mezza casa sì mezza casa no perché evidentemente c'è un elemento un elettrodomestico che che non funziona non funziona va bene non ha importanza domani verrà l'elettricista e lo aggiusterà vivo in questo momento in questa stanza dove c'è luce perché adesso andrò a letto anche se è molto tardi no non mi arrendo non mi arrendo non mi scoraggio lo scoraggiamento non è cristiano quando Gesù si è trovato nel deserto a combattere con il demonio non si è messo a discutere con il demonio semplicemente ha ricordato a se stesso di essere dio e di essere figlio di dio che dio è padre e che le cose si risolvono è un'altra cosa lui avrebbe potuto andare via dal deserto non lo ha fatto non l'ha fatto perché non è il bene che deve andare via sono le cose brutte che devono andare via questi danni sono stati creati a questo a questo elettrodomestico sono stati creati due anni fa dal dalla ditta non voluta da me ma portata dal dal condominio che ha lavorato e ha rotto i soffitti in maniera violentissima facendo schizzare pietre e calcinacci ovunque e colpendo questo elettrodomestico danneggiandolo e portandolo al punto da staccarsi e staccare completamente la luce ripeto è un motivo otologico il motivo per cui io non vado di casa io non andrò via di casa saranno quelli che hanno fatto danno a sistemare la situazione passerà tempo non mi interessa c'è il giudice in mezzo il giudice ha decretato quello che si deve fare mercoledì verrà il perito del tribunale e si andrà avanti io non mi arrendo io non mi spavento io non ho paura grazie a tutti